La vergogna, solo in Italia e in Corea del Nord, dopo 4 anni il libero voto dei cittadini viene ribaltato, solo in Italia e in Corea del Nord, però non ci rassegniamo. Le colpe della sinistra non esistono, quando fa qualcosa la Lega anche se è regolare viene massacrato, però adesso cominceremo a querellare un po' di gente comunque. Unitico e Piemontesi, Piemontesi che risparmiano milioni di euro grazie all'amministrazione di ricotta e che rischierebbe di tornare a spendere con la sinistra che torna in Piemonte. Roberto! 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 Siamo qui per difendere la democrazia, che ieri è stata violata perché questa sentenza è una vergogna, questo è un colpe, ma uno che arriva da fuori e che vede che dopo 4 anni annullano le elezioni regionali che si sono liberalmente svolte, dove la gente ha votato liberamente e dice che questo è un paese di matti, questo è un sistema che non c'è più.